Lo scorso mese di dicembre in orario notturno era avvenuta una violenta rissa in via Lalumia a Palermo all'altezza di via Gatano d'Aita in una zona luogo di ritrovo della movida palermitana ricca di esercizi commerciali e locali. Durante la rissa alla presenza di numerosi giovani uno dei partecipanti aveva esploso dei colpi di arma da fuoco. Nello scorso mese di febbraio a seguito di attività investigativa era stata eseguita dai carabinieri un'ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico di tre dei partecipanti all'azione violenta che risultano indagati per rissa aggravata e a uno di essi individuato nel giovane che aveva estratto e usato la pistola era anche contestato il reato di aver portato in luogo pubblico utilizzato un'arma da fuoco. Il questore di Palermo interviene adesso con la misura di prevenzione personale nota come da corbuilli nei confronti dei soggetti che hanno generato allarme in sicurezza nella cittadinanza. Il divieto impedisce ai destinatari l'accesso ad alcuni esercizi pubblici per tre anni interdisce di transitare e stazionare nella zona teatro degli eventi dove sono presenti diversi locali ad alta concentrazione giovanile legata alla movida e per due di essi il divieto è stato esteso a tutti i locali di pubblico trattenimento ovvero esercizi pubblici con licenza rilasciata dal questore della provincia di Palermo per ballo e spettacoli presenti nel territorio dell'intera provincia. Al giovane che ha sparato è stato imposto anche l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia nei giorni di venerdì, sabato e domenica.